Siracusa, pesca illecita in riserva marina beccato di portista trasgressore, scatta sanzione amministrativa. Altanto pomeriggio di ieri, durante un'attività di sorvolo dell'area marina protetta dal premio da parte dell'elicottero in dotazione alla base Aermobili Guardia Costiera di Catania, l'equipaggio del velivolo ha individuato un'unità da di porto intenta a effettuare attività di pesca nello specchio acqueo ricadente nella zona B della riserva marina, dove è possibile esercitare esclusivamente una piccola pesca artigianale ad opera delle imprese di pesca locale autorizzate secondo le modalità disciplinate dall'ente gestore. Immediatamente dopo è scattata l'operazione di Polizia Marittima Aereo Navale della Guardia Costiera con l'impiego dell'elicottero e l'unità navale classe 300 della Capitania di Porto di Siracusa. L'imbarcazione da di porto, costantemente monitorata sia dai sofisticati sistemi di bordo del velivolo e dal sistema di videosorveglianza dell'area marina protetta del premio e gestito dai militari in servizio presso la sala operativa della Guardia Costiera di Siracusa, è stato poco dopo intercettato dalla motovedetta che ha provveduto a far desistere immediatamente il trasgressore dalla sua azione di pesca abusiva. Nei confronti del diportista è stata elevata in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta del premio una sanzione amministrativa per un totale di 200 euro.